Neve a bassa quota e ghiacciate notturne, anche la Liguria è stata messa in ginocchio nelle ultime 48 ore dall'ondata di maltempo proveniente dalla Siberia. I cambiamenti climatici repentini, con passaggi da temperature primaverili a ghiacciate improvvise e il transito da periodi siccitosi ad eventi alluvionali, sono purtroppo ormai una realtà che si manifesta sempre più spesso, con pesanti conseguenze sull'agricoltura italiana, che negli ultimi dieci anni ha subito danni per 14 miliardi di euro. Nella giornata di ieri anche la Liguria, in particolare le province di Savona e Imperia, sono state duramente colpite e hanno subito gravissimi danni, tanto da spingere la Col di Retti Liguria a chiedere immediatamente alla Regione di proclamare lo stato di calamità naturale, in modo particolare per le aziende orticole e florovivaistiche locali. Il presidente regionale di Col di Retti, Gerolo Amocalleri, ha evidenziato la presenza di raccolti distrutti e campi di ortaggi ghiacciati. Danni sono segnalati anche alle serre, agli impianti di irrigazione e agli abbeveratori delle stalle.